Ehi ragazzi e ben trovati in questo nuovo video, sono i suonorobanackeke Oggi siamo ritornati sui giochi horror, che bello Essendo i giochi horror, fanno qua Tu da dove sei sbocato? Comunque, siamo a... Oggi siamo insieme a... XD Burning Man E XD Capitalin Yaku Oggi siamo su... Sakura no Gaku Sakura, non sa Non lo so, non siamo noi Ok ragazzi, siamo partiti Siamo partiti, noi... Questa qua è una delle tipiche scule giapponisi Dove sei nei college Po' di ordine, bro Dove sei nei, ragazzi, le scuole giapponesi fanno molto poco Cioè, la scuola... Questa scuola cade a pezzi Sembra, non lo so Wow, come si arriva Wow, come si corre Sembra Super Mario Allora ragazzi, con le mani shift No, 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 non si corre E se cazzo No, non l'ho visto Non l'ho visto questo gioco Ragazzi, premessa questo gioco, l'ho preso da internet È un gioco horror, no, è qui Che cazzo È un gioco horror, è giocchi con G Ah, ok È cazzo È cazzo, è morto È morto, signori Guarda, ci sono dei fiori È sangue, è sangue È cosa fai a non vedere Sono betta lì Sono i segni della pizza di cracco Ah, è salvo Posso prendere il colpo Isspezione con il tasto E Ma di chi? Eh, oh, che hai fatto Ah, la, 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 la Vedi che Cazzo Che cazzo Ti sta messo in disordine Ti sta dando Scegli fiori Scegli fiori Scegli fiori Scegli fiori Ci stanno i fiori banchi e ricordate che noi stiamo andando avanti così che non sappiamo lo scopo del sciocco scende le scale scende le scale e soprattutto schippa sempre giocano delle cose quante cose chi non facciamo casino non sono il presidente della scuola però minchia mettete un po con il biazza pittro poco dolbi è uscito a portata non c'erano la porta noi siamo entrati esci dalla finestra scusa sceso di un piano in mezzo che abbia passato come no come no allora ragazzi a micchia micchia che bel mostro a disegnato mi sono impiccato dobbiamo disangere me che mi sono impiccato che facciamo la sta volando se Goku super saian con i capelli di riuscire ragazze nella uscita non c'è una quell'altra parte ci hanno bloccato da quell'altra parte qua da guarda ma basta a penzola che si può più scelta che ci si traccia in bacino o guarda un po altri percorso che ci sono dei soldi sono stati sottopoli guarda che è bene e c'è il ciclo anche di i testi sopra ti o a non c'è non c'è chi a covaccia basta testi basso vada per gli aspetti si sente al 2.0 su vabbè tu stai quella stanza forti storia e no è da studia sott'interno aspetta che dovreste stare ok questo cioè fa il bagno non era previsto cosa c'è una tizia chi è qui andiamo a picchiare andiamo a picchiare la tizia questa è la mia compagna di gra ma non sente fritto bisogno di un petalo per scambiarsi però bisogno di un petto e che non mi escusa mi sa che gli devi dare cercato ho capito ma fa un pulo c'è va bene andiamoci il fiore dunque a trovare un fiore no fiore di merda ha bisogno di vivere col fiore vado a vado apri fiore abbiamo luogo abbiamo un zio ma perché stupida c è bella cristiana grazie c'è persona ma prestato piace bene che cacchi e che compagni di questo cosa è successo io so poi io ricordi 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 non ti fermare non ti fermare senza il gritto sempre spiega salta si dai qui salta solo con il chio solo con il chio ma com'è ma come ci prende questo non sei solo tu vai no meglio andare di 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 poter un seno di cateto perché di poter un seno di più di un cateto quindi basta ce la potremmo fare si vedo il paradiso sto soltanto che abbiamo pagato il computer no mi sono proprio sensibile a queste cose questi flash di ero un sogno vada è all'ospedale ora si baciano ora io proprio c'è la figlia papà è morto no è lo zio eh sì è lo zio molto carino molto carino ah ok è finito così bene ragazzi è stato un video molto intenso posso dire si scopre che era l'ossiglio pensavo che era il fidanzato pensavo che il fidanzato ora possiamo concludere quel video vuoi hai qualcosa da dire ma certo adesso tocca la pelle esercizio e lo sexy burning light ammaliami un argomento ah ok ok allora sui maiali dai i maiali non so cosa c'entrano i maiali con no c'entrano del maiale non si butta via niente so che in cucina è una cosa molto importante non buttare via nulla dei maiali lo sapevate che ad esempio del maiale ci fanno le costolette con la pancetta no? la pancetta poi ci fanno le costolette figuratevi con le rotole dei girocchi ci fanno anche i marshmallow buoni i marshmallow si fanno con la cartillaggine di maiale io amo la carne peccato che non posso andare in india perché in india il porco è sacro la vacca è sacro però credo sia sempre canto e beh comunque è canto vabbè lasciamo sempre ci vediamo alla prossima ragazzi ciao